buongiorno a tutti benvenuti su investire.biz ben ritrovati anche quest'oggi alla rubrica caffè e mercati un saluto come sempre da riccardo zago grazie infinite tutte le persone che hanno partecipato ieri sera alla scalping live in diretta durante la federal reserve è stata una scalping live veramente bellissimo ci siamo divertiti un sacco e abbiamo anche preso tutti i movimenti tranne uno abbiamo preso un piccolo stop loss però sia lo short che adesso andiamo a vedere sul grafico sia il long lo abbiamo portato a casa quindi devo dire che è stata una sessione veramente molto profittevole quindi grazie a tutti eravamo anche in tantissimi bene detto ciò però andiamo subito sul sito per vedere quelli che sono gli appuntamenti rimasti questa settimana e poi andiamo ad aggiornare come sempre l'operatività bene allora andiamo a commentare la sezione degli appuntamenti eccoci qui oggi giovedì dalle 16 alle 17 trading con ichimoku più pre section una delle sessioni più operative della settimane quindi io vi aspetto come sempre alle ore 16 poi andiamo a commentare anche quello che è stato il dato di il dato di ieri infatti la federal reserve ha alzato i tassi di interesse dall'uno andiamolo a vedere eccolo qui dall'uno il costo del denaro dall'uno all'1 75 per cento contro gli 1,5 previsti come hanno reagito i mercati e quale potrà essere la direzione per il prossimo periodo e allora lo andiamo subito a vedere sulla piattaforma delle broker kimura trading commentando innanzitutto la la seduta di ieri e ovviamente la volatilità da parti a partire dalle ore 20 abbiamo preso noi qui prima uno short e poi un bel long su s&p 500 e anche sul nasdaq detto ciò comunque dopo le parole di powell infatti lo vedete qui ieri dopo ieri dopo le parole di powell scusate che modifico ecco qui non mi tornava l'orario dopo le parole di powell i prezzi sono saliti con con forza per quale motivo perché powell ha detto che ha affermato e sono alquanto scettico su questa cosa che con un aumento così importante dei tassi di interesse andranno a tutelare il mercato del lavoro e l'inflazione piano piano tornerà al 2 per cento quindi su queste parole abbiamo visto un rialzo molto molto importante però guardate oggi dove siamo abbiamo già recuperato tutto questo movimento rialzista io non credo a queste parole queste parole nel video sono state dette semplicemente per calmare i mercati a fronte di un aumento molto importante in una sola seduta dello 0.75 per cento quindi la mia view rimane ribassista sui mercati ribassista su s&p 500 guardate come ieri prezzi come questa mattina i prezzi hanno rotto al ribasso questa zona supportiva molto molto importante quindi attenzione perché anche in ottica intraday secondo me si possono valutare degli short con un obiettivo primario in area 3.700 punti mentre solamente un ritorno con forza al di sopra di quale livello e lo dico chiaramente 3.740 punti bene la rottura rialzo di 3.740 punti a mio avviso potrebbe dare delle nuove delle nuove spinte al rialzo altrimenti la mia view rimane short andiamo a vedere anche un time frame più ampio come quello giornaliero la rottura dei minimi a mio avviso è vicina e oltre i 3.700 poi ci possiamo andare ci potremo dirigere anche verso i 3.000 e 600 punti ovviamente non solo nella giornata di oggi ma insomma nelle sedute a venire quindi occhi puntati su s&p 500 anche anche sul nasdaq notiamo che c'è stata la rottura di quella che era la zona supportiva creatasi ieri sera in concomitanza con le parole del presidente della banca centrale americana livello rotto al ribasso quindi attenzione perché anche qui la struttura è palesemente ribassista solamente qui un ritorno sopra gli 11.400 potrebbe dare nuovo slancio al mercato americano e andiamo a concludere il tutto quest'oggi con le due criptovalute voglio parlare velocemente di bitcoin e detilium perché perché le due criptovalute a maggior capitalizzazione hanno raggiunto i massimi del 2017 anzi bitcoin il massimo del 2017 intorno alla soglia dei 20.000 quindi qui a mio avviso si può iniziare ad acquistare nuovamente la criptovaluta per eccellenza la stessa cosa riguarda ethereum che ha raggiunto i massimi del di gennaio 2018 eccolo qui anche qui a mio avviso si può iniziare a comprare siamo nella soglia comprata ai 1000 e i 1200 dollari quindi queste sono delle zone interessanti dove accumulare posizioni bene ragazzi noi ci vediamo quest'oggi come detto alla sessione di trading con ichimoku più price action alle ore 16 buona giornata e buon trading a tutti grazie a tutti